... Guarda che c'è proprio due insemini... ... ...grandissimi... Guarda dove piccassi se di andare... ...vada sotto cosa chi va... ... … ... ... ... ... Questa scarpetta è da ginnastica senza calcetti, capisci tu? Guarda, guarda che lascia dei imbecilli. Perché si porta a fare queste cazzate qua, guarda, 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 attento. Staggedrio, ciappio parma. Staggedrio, ciappio parma. non posso vedere che adesso